Noi siamo una generazione che a casa ne abbiamo solo dormito, a casa noi non ci siamo mai stati a casa. La gioia del gioco, del gioco all'aria aperta, qualsiasi tipo di gioco, qualsiasi tipo, pallone, poi alla fine il pallone. I ricchi giocavano basket, giocavano palla a volo, gli snob, qualcuno giocava a tennis ma veniva visto con sospetto, perché tennis, hai capito? I ricchi giocavano basket, giocavano, poi alla fine il pallone.